www.feyyaz.tv Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, io vado da Pascuale, ormai, aspetta, no? Dov'è il mio? Che cazzo del signorista, senza nuove. Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso, Sì, il centro delle vibrazioni è quello più accesso,